Ci sono stati, ci sono e insomma a questo punto gli esperti di mercato danno per certo l'approdo al Genoa di Lomonaco, addirittura si è parlato di un quadriennale per ripartire perché chiaramente il Genoa adesso vive una situazione particolarmente delicata e per la classifica e per le eventuali proiezioni dell'inchiesta calcio scommesse che potrebbero coinvolgere la squadra del Grifone, però preziosi insomma punta sull'omonaco, pare che ci sia insomma un'intesa di massima e che a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità. Scusa ma anche se penserebbe il Genoa? A prescindere. No, perché sicuramente è noto il suo amore per il colore viola, dico non penso che faccia un passo indietro va un dio. No, no, io sto cercando di insomma unire. No, perché lui non ha un amore per il colore viola, per cui dico andare a Firenze sarebbe incoerente come lui è stato in questo periodo. Il fatto che il Genoa avesse già un impegno con Son Sogliano e che quindi probabilmente dovrà risolvere questo impegno con Sogliano per dare il via libera all'arrivo di Lomonaco. Grazie. 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 Grazie.